Vincenzo Coppola, lei è il presidente dell'associazione che organizza, siamo arrivati all'undicesimo anno, cortiamo i cortometraggi che una volta erano considerati la parte minore del cinema, adesso invece non è più così. No, assolutamente no, lavori di altissima qualità, veri e propri film in pochissimi minuti, sono il presidente, io da qualche mese ho l'onore di portare avanti il circolo, assolutamente in collaborazione con gli altri soci con cui abbiamo fondato e portato avanti fino ad oggi. Siamo all'undicesima edizione, per noi è importantissimo non saltare l'appuntamento annuale col concorso, per noi è importantissima la parte artistica, è fondamentale comunque promuovere questo tipo di attività, al di là dei finanziamenti, insomma dei supporti economici dalle varie amministrazioni, da comunale, regionale e provinciale come era prima, perché assolutamente teniamo a promuovere questo tipo di linguaggio e portare avanti l'attività culturale che ci siamo previstati di portare avanti quando abbiamo fondato il circolo. Quante opere sono arrivate quest'anno? Quest'anno quasi 300 opere, 299 da 29 paesi, fra cui Sud America, Thailandia, Corea, pochi lavori italiani, meno, moltissimi lavori spagnoli, questo significa che probabilmente produrre cortometraggio, comunque fare cinema, fare questo tipo di lavoro in Italia non è più così conveniente, perché sono spese e quindi anche per la distribuzione, per la promozione, ma anche per la produzione, necessitano risorse economiche. Per quello che riguarda le diverse sezioni abbiamo, tra queste anche quella dei documentari, Massimo Bondielli di Massa, prima volta che è qua, con un documentario particolarmente interessante, sicuramente perché riguarda la strage di Diareggio del 2009, 32 morti. Sì, prima volta qui e sono felicissimo di essere in questo festival, molto importante, perché tiene viva anche la memoria storica, ed è un esempio appunto il mio cortometraggio. Ovunque proteggi racconta la strage ferroviaria che c'è stata a Diareggio nel 2009, il 29 giugno, dove un treno è deragliato, una cisterna si è forata, il gas è uscito, è entrato nelle case, c'è stato un innesco, tre esplosioni e 32 persone sono morte e bruciate vive. Ivan Vadori invece non è un volto nuovo per Alcamo, già al quarto anno farà parte della regia, peraltro abbiamo anche conosciuto per il suo lavoro cinematografico sulla storia di Peppino Impastato. Adesso di nuovo in giuria. Sì, sono onorato di essere al quarto anno qui in giuria tecnica, diciamo che semplicemente il fatto che 300 lavori da tutto il mondo siano arrivati ad Alcamo è una dimostrazione che è un feste, che sta crescendo sempre di più. Sappiamo benissimo che purtroppo oggi produrre un cortometraggio in Italia è difficile, infatti si nota che i documentari e i cortometraggi arrivano praticamente dall'estero. C'è sempre difficoltà a dare il voto finale, al premio finale, infatti è usanza di cortiamo dare delle menzioni e questo dimostra la difficoltà per noi giurati, esperti, professionisti di dare un riconoscimento a loro. Sono molto felice di fare parte anche del progetto Alcamo Doc, magari tra i ragazzi che adesso stanno imparando a fare documentare, a fare cortometraggi ci sarà il prossimo vincitore di Cortiamo. Una novità importante di quest'anno, volevo dire, è la collaborazione insieme a Segni Nuovi di un nuovo circolo, il circolo Alcamo Doc, anche questo è un circolo di cultura cinematografica, nato in funzione di un finanziamento che abbiamo ricevuto dalla regione Sicilia, un finanziamento per l'organizzazione di un corso per giovani filmmaker dai 15 ai 24 anni, Grazie a tutti!